Sono tre i commissari straordinari che condurranno l'ILVA S.P.A. verso il risanamento. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato il decreto di ammissione dell'ILVA e nominato i tre super commissari. La scelta è stata nel senso della continuità. Confermati i commissari Piero Gnudi e Corrado Carruba che negli ultimi sei mesi hanno gestito l'ILVA, a cui è stato affiancato Enrico Laghi, ordinario di economia aziendale alla Sapienza di Roma, presente in diversi collegi sindacali di società quotate italiane. In ballo c'era Roberto Renon, attuale direttore generale dell'ILVA. Probabilmente Renon, uomo di azienda con una grande esperienza nel settore siderurgico, potrebbe essere destinato alla gestione della New Co. Primo provvedimento da prendere sarà la revisione del passivo con l'individuazione dei fornitori strategici e non. Un elenco dei sommersi e dei salvati sui quali si sta consumando a Taranto la partita più dolorosa con le imprese appaltatrici già costrette a mettere in cassa integrazione straordinaria i propri dipendenti. Poi toccherà al governo fare presso sul fronte della New Co. La società a maggioranza o totalmente pubblica che prenderà in affitto gli stabilimenti ILVA e che dovrà risanare l'azienda nei prossimi 24 mesi. Intanto prosegue il corteo di protesta dei lavoratori dell'indotto siderurgico. La tappa iniziale del corteo è stata la direzione dell'ILVA. Oltre un migliaio di persone, tutti inattivi perché collocati dalle rispettive aziende in cassa integrazione dopo un iniziale annuncio di messa in libertà, non è escluso che il corteo possa dirigersi verso la città.